Due pareggi consecutivi non minano le certezze finora accumulate, il sogno resta vivo, basta crederci un po' di più. La scossa può arrivare contro il Sandonato Tavarnelle, anche se il big match della prossima settimana contro il Montevarchi dirà tanto, se non tutto, sul finale di stagione, marca Trastevere, è la venticinquesima giornata del campionato di Serie D, girone E, è tutto pronto, al Trastevere Stadium. Lorusso, uno contro uno, cross profondissimo dall'altra parte dove c'è Milani, la mette al centro, deviazione, zampata, tentata da Roberti che va giù, utile anche in fase difensiva, vuoto Milani, poi Lorusso serve ancora una volta a Milani, in Cespica non riesce a servire un compagno, poi Crescenzo, attenzione al break del Trastevere, fa involare Milani dall'altra parte, c'è Roberti, uno contro uno, Roberti direttamente, addosso a Signorini, è la prima occasione del match, non viene sfruttata. Proprio campo per sfondare il muro del Sandonato, mentre Milani prova a portarsela avanti, la mette al centro, per Roberti che è spaccata. Pallone al centro, Lorusso, gran palleggio, Lorusso, calcia Lorusso, strozzato il tiro. Il numero tre del Sandonato che fa buona guardia, Sbardella, Crescenzo, palla per Lorusso, posizione regolare di Lorusso che dà uno sguardo al portiere, dove può arrivarci Carcani, vanno all'uno contro uno, la mette al centro con il mancino, occhio perché è tutto solo, è il numero set che calcia! Ed è Vieri Regoli a sbloccare il match del Trastevere Stadium, un buco enorme al centro dell'area di rigore del Trastevere, Rizzi allontana, Roberti, squadra un po' spaccata, quella del Sandonato, Roberti prova il suggerimento per Lorusso che prova ad avanzare, spinta regolare, passa Lorusso ed era di rigore, Lorusso a sterza, può calciare, Lorusso! A sinistra sale Tancredi, lascia scorrere il pallone Lorusso, Tancredi al centro, cross, Roberti ci arriva, traversa, auto traversa forse di un difensore del Sandonato, a un passo dal pareggio il Trastevere. Crescenzo di testa, la rimetta dentro Massimo, prova a controllare, la girata al volo! Fischia il direttore di gara, pallone scodellato al centro, Di Santo, si ritrova il pallone sul destro, va sul fondo, mette dentro il pallone col mancino e va giù! Il calciatore della Sandonato ed è calcio di rigore per la squadra toscana, parte Caccialli, calcia la sinistra di Casagrande e lo spiazza 2-0 del Sandonato Tavarnelle al Trastevere Stadium. Sbardella spazza via regalando di fatto il pallone a Pino che si invola, Pino contro Casagrande, Pino! Chiude i giochi al Trastevere Stadium sul regalone di Sbardella, 3-0 per il Sandonato. Poi intervento, duro di San Nipoli, sotto gli occhi dell'arbitro che non se ne accorge, Lorusso, Bertoldi, ce l'ha sul destro, passa il pallone di Bertoldi, non c'è, deviazione, palla sul fondo per la squadra del Rione, che adesso deve cercare il miracolo. Mentre va giù, e proprio di miracolo parlavamo, c'è, c'è l'occasione per il Trastevere, il calcio di rigore per fallo su Fontana. Parte Lorusso, la battuta di Lorusso, è centrale ed è vincente, 1-3 al Trastevere Stadium, c'è ancora luce per la squadra del Rione. Sabelli sfiora, Fontana la protegge, va giù, non c'è fallo, dentro per Lorusso, posizione regolare, Lorusso calcia ed è 3-2, c'è ancora più luce, anzi no, perché il triplice fischio del signor Luca Capriolo di Bari giunge proprio sul gol di Lorusso, che non è abbastanza, 3-2, brutta battuta d'arresto del Trastevere in casa contro il San Donato Tavarnelle.